insomma ti dicevo la figlia della Giuditta che l'hai andata in Francia no Canada, mi sbaglio sempre in Canada parla francese vabbè allora come andare in Francia che l'hai più vicina guarda che disastro vergognosi vergognosi che non si è sentimi a vedere queste cose adesso basta adesso basta non andiamo più neanche a fare la spesa se mettiamo qua il primo che vedo che lascia un rifiuto fuori dal cassonetto lo porto dal sindaco Lidia che sei così i vigili che fanno questo mestiere qua gli danno le multe su queste cose meno male che gli dà perché l'italiano se non lo tocchi nel portafoglio ti fa marameo ma i vigili girano non puoi essere dappertutto brava non ti puoi mettere un vigile per bidon quanti bidoni zeli qua in giro intanto che aspettiamo prima o dopo è in riva metti tesoro non sto a farti vedere buono buono sì ma a Fernanda bastava due carreghe non serviva tutto questo Lidia le robe vanno fatte tutti con i carismi eccolo qua eccolo che l'è riva fermo la giovanotto di chi è quella roba? non si lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti ecco vale bene nome e cognome e indirizzo ma guardi che c'è un equivoco no è nessun equivoco signorine di chi è questa roba qui fuori complimenti e non lo sappiamo che non si lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti noi eravamo qua nome e cognome e indirizzo è un equivoco noi stiamo fanno la guardia la guardia siamo noi e io sono il capo delle guardie ma signor Benedetto che confusione qua bisogna Lidia bisogna mettere le i sotto i puntini se no andiamo più a casa allora non si lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti esatto però no 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 brava signora ma questo l'abbiamo detto già noi lo sa? vado da qua allora non si lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti ma io lo so bene e il parro ma qua lo sa tutti cosa stiamo qua a fare cosa? e doveva dire che è da qui là? a qui là? eh buongiorno allora non si lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti ecco tanto la parca che per la morata 10 minuti per dire quanti caffè? io hai avanzato ancora un po' di caffè liscio liscio eh liscio no 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 guarda quelle robe là oh dietro siamo dietro dietro ecco ecco facciamo i rifiuti sì no 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 no